Musica Passa la linea di Maurizio Fugatti, Civica Trentina, avanti con la Lega e il centrodestra ma senza Claudio Civettini che intanto vira verso autonomia dinamica. Mauro Ottobre, persona importante. Franco Panizza non sarà candidato alle prossime elezioni, cede il passo ai consiglieri uscenti in cerca di riconferma. Ugo Rossi, uomo generoso, senza di lui non sarei nemmeno qui. Una squadra di richiedenti asilo al via al campionato amatori del gioco calcio. Nasse Interciante, un'associazione WISP, ATAS, calidoscopio con il sostegno della fondazione Caritro. Paura in Val Sugana, un bambino di 5 anni viene investito a Villaniedo. Immediato il trasporto in elicottero al Santa Chiara di Trento. Trauma cranico e diverse ferite, ma bimbo non sembra in pericolo di vita. Provano un colpo alla cassa rurale Alto Garda, i malviventi fanno saltare in aria il bancomat con una carica esplosiva. E' successo nella nota Pietra Morata, indagine dei Carabinieri in corso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.